C'è posta per te 2023 11 febbraio 2023 23 e 49 Bernardo ritrova Marina dopo 50 anni, ma lei non ricorda, De Filippi. Non gli sei rimasto impresso, a C'è posta per te, Bernardo cerca Marian, la donna di cui si è innamorato 50 anni fa, quando faceva il cantante. C'è posta per te, Bernardo. 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 Caccia Bernardo. Caccia Bernardo. Caccia Bernardo. Caccia Bernardo. Caccia Bernardo. Caccia Bernardo.